I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato tre soggetti indiziati di lesioni aggravate e porto illegale di arma da fuoco, reati commessi lo scorso 2 gennaio in via delle medaglie d'oro. Gli indagati avrebbero organizzato una vera e propria spedizione punitiva per regolare i conti, risposta a un pestaggio che avrebbero subito qualche giorno prima da un gruppo avversario. Individuato uno degli obiettivi, un 23enne di Catania, i rapporti di parentela con un esponente di spicco del clan dei Cursoti milanesi, sarebbe quindi scattata una cruente e repentina aggressione in pieno giorno in una zona centrale della città. Gli aggressori avrebbero così colpito la vittima davanti alla propria attività commerciale su tutto il corpo, compresa la testa, con calci, pugni e bastonate. E l'avrebbero poi gambizzata con un colpo di pistola con silenziatore che solo per pochi millimetri non aveva reciso l'arteria femorale della coscia sinistra. La vittima ha riportato 30 giorni di prognosi per trauma cranico, contusioni varie e una lesione d'arma da fuoco. I tre si trovano ora agli arresti domiciliari.